e carissimi amici carissime amiche salve a tutti benvenuti sul canale siamo arrivati oggi alla giorno 106 dalla scomparsa di antonella di massa poi ritrovata cadavere dopo 11 giorni ancora nessuna notizia ufficiale oggi vi voglio raccontare che per questa morte ci sono delle analogie di cui abbiamo già parlato con il caso di Diana Resinovic ci sono delle analogie inquietanti però ci sono anche delle differenze importanti ve le vorrei ricordare qui per il caso di antonella parliamo di una scomparsa di 11 giorni anomala perché eventualmente si deve pensare o credere dove possa essere stata nel caso della Resinovic addirittura abbiamo circa 20-21 giorni un'altra similitudine è il sacco nero mentre nel caso della Resinovic abbiamo i sacchi infilati qui almeno sembra che questo sacco nero si trovasse sotto il cadavere ma sembra una presenza curiosa il sacco nero come pure il cordino al collo per Diana Resinovic per lei una sorta di cordino che sembra essere un filo elettrico di uno scaldino di una coperta non meglio precisato ma comunque attorno al collo uguale sono elementi apparentemente inspiegabili di una morte un altro elemento che ha costi due casi è diciamo quello che si sa almeno dalla perizia dal primo dalla prima impressione una morte che sembra risalente a poco prima diciamo intorno alle 48 ore per Antonella e sembra così anche per Diana Resinovic una differenza sapete dove la colgo ed è notevole nelle ricerche pur essendo allontanamento volontario indubbiamente allontanamento volontario per Antonella scattano una decina di giorni di ricerche incredibili enormi secondo me anche esagerati se ne vogliamo dire tutto con migliaia fra forze dell'ordine volontari con l'uso massiccio di elicotteri di droni di cani cani molecolari mentre come sapete nel caso di Liliana pur essendo allontanamento volontario all'inizio almeno nessuno si è preso la briga di cercare alcunché solo qualcuno poi cercava già nei sacchi neri però è una sostanziale differenza però poi si ribalta tutto perché cosa succede che dopo il ritrovamento del corpo della Resinovic abbiamo lo scoppio come dire di un caso che per due anni e mezzo se ne parla sempre comunque invece per quello di Antonella di Massa di cui parliamo dopo il grande spiegamento di forze dopo la grande cronaca di questi 11, 12, 13 giorni dopo ecco due settimane della scomparsa cala invece per questo caso qui improvvisamente cala un silenzio tombale ecco trovi un silenzio inspiegabile altra anomalia diciamo è anche la presenza di queste si dice lesioni cutanee non particolarmente profonde ma su questo non possiamo dire altro perché gli esiti dell'autopsia non sono state liberate come pure la causa della morte non si sa non si sa nemmeno se sia asfissia se sia avvelenamento non si sa un altro elemento comune per quello che si dice almeno è l'uscita di casa senza soldi senza documenti solo con la differenza dell'uscita di casa con il cellulare che poi però lascia in macchina e un'altra similitudine grandissima fra le due donne è che anche Antonella come Liliana era una donna buona riservata di buona educazione elegante raffinata direi per quello per quello che si sa per quel poco che si è visto eppure per entrambe entrambe hanno scelto o hanno scelto per loro dei luoghi di degrado sono state trovate queste due donne così raffinate sono state trovate o per proprio scelto o per scelta di altri in luoghi degradati da De Sinovic in quel in quel palco così abbandonato e Antonella in questo giardino così un po' incolto buttata lì in un posto certamente degradato anche quello come una sorta di sottile regia e il finale il finale sarà uguale perché vedete per la De Sinovic sapete che il finale ormai sembra che sia un finale in cui non c'è una soluzione si chiuderà per suicidio anomalo perché non si è voluto valutare altro sarà così anche per Antonella di massa sarà così perché perché se non arriva nulla di eclatante nulla di importante dalla autopsia magari arriveranno questi risultati in cui la scienza non si pronuncerà al 100% quindi arriveranno dei risultati ambigui in cui si potrà pensare tutto e il contrario di tutto allora ecco sarà un caso anche questo che si chiuderà senza soluzioni in cui l'oblio farà la sua parte e nessuno se ne ricorderà più vorremmo che ci fosse la giustizia la giustizia di sapere come di sapere quando di sapere perché è morta Antonella di massa oggi sono 106 giorni dalla sua scomparsa non vedo grandi segnali non vedo grandi movimenti grandi fiaccolate grandi richieste né da parte di familiari né di amici né di compaesani né di conterranei né di di associazioni per i diritti delle donne né di semplici casalinghe e allora noi proseguiremo con la speranza di poter dare almeno qualche novità una sola cosa possiamo fare condividere questo video dappertutto e continuare a fare mail all'unica trasmissione che seguite avvicino il caso a chi l'ha visto sperando quindi condividete in massa condividete sempre di più un abbraccio a tutti quanti voi non vedo